Sessore Capri, l'argomento del giorno, lo stadio di Acquasanta dopo il blitz di martedì, le polemiche anche del sindaco, qual è il suo pensiero? Ma guarda, qua non ci sono polemiche, stiamo tutti remando sulla stessa direzione. Cioè ci sono i tifosi da un lato che giustamente hanno le loro legittime richieste, c'è la società che ha le loro legittime richieste e c'è un'amministrazione comunale che sta lavorando fattivamente e assolutamente per risolvere questo annoso problema. Ma io ricordo che questo è un problema, lo stadio di Acquasanta saranno dieci anni, forse anche di più, forse venti che questa cosa esiste. I lavori sono iniziati, la parte finale dei lavori, quella che riguarda il manto, tutto quello che state vedendo, sono iniziati nel maggio-giugno 2015. Noi abbiamo detto, purtroppo pensavamo prima, ma abbiamo detto che adesso speriamo che entro il maggio, massimo giugno 2016, noi avremo lo stadio completo. Forse però è stato un errore da rescadenze che non sono state mantenute negli ultimi anni. È vero, sì, è vero, io per quello che mi riguarda faccio anche un mea colpa, forse anch'io preso dall'entusiasmo l'anno scorso ho detto prima possibile. Solo che abbiamo avuto, vi garantisco, dei problemi che non sono dipesi da noi, cioè sono dei problemi che ci sono calati dall'alto, forse anche per inesperienza. Tutte queste prescrizioni per uno stadio senza barriera, nessuno poteva pensare. Voi pensate che noi, ripeto, sulle telecamere, pensavamo di farlo con 50 telecamere, ce ne hanno chieste 100. La parte di ero lo stadio che doveva essere uno stadio, un campo d'allenamento, pensavamo di farlo, insomma, bastare a metterlo a posto. No, adesso ci hanno prescritto che deve essere il parcheggio per i tifosi ospiti, in più dobbiamo fare tutto un percorso per ospitarli, le gabbie. Cioè è una cosa incredibile. Per quanto ci riguarda noi, vogliamo bene alla città e vogliamo bene alla squadra, i tifosi sappiano che stiamo lavorando nella stessa direzione loro. Se c'è stato qualche errore, anche da parte mia in passato, vi chiediamo scusa, chiediamo scusa alla città, ma dobbiamo andare avanti, lo stadio ci sarà. E questa è l'ultima cosa che voglio dire. I soldi, i soldi, l'altra sera abbiamo fatto una riunione operativa, abbiamo rifatto i conti, ripeto, da quello che mi dicono gli uffici. I soldi ci sono fino all'ultima lira, adesso si tratta solo di aspettare i tempi tecnici per questa cosa.